quante volte a menza oppure durante la ricreazione vi è capitato di vedere un vostro alunno magari che mangia troppo oppure troppo poco che sa tanti ripasti oppure che mangia solo specifici alimenti in questi casi può essere difficile capire come comportarsi e le domande possono essere tante sarà davvero un problema come posso essere d'aiuto devo parlarne con i genitori abbiamo pensato a questo percorso proprio per voi insegnanti per aiutarvi a dare risposta a queste domande il corso infatti vi aiuterà a conoscere meglio i disturbi dell'alimentazione e l'obesità nell'età evolutiva e quindi favorirne la prevenzione ad acquisire strategie da utilizzare durante i basti e a creare spazi di lavoro sull'alimentazione sull'autostima e sulla relazione con il proprio corpo durante le attività didattiche